e ben ritornati sul canale sono Francesca e oggi vi spiegherò come installare minecraft dungeon nel telefono come prima cosa dovete iscrivervi al canale, attivare il campanellino e mettere un bel mi piace e ora si va il tutorial allora entrate ora vi faccio vedere google no aspetta come si chiamava apk minecraft dungeon, questo qua il primo, questo qua apk minecraft dungeon il primo cliccate vi mettete download apk cliccate minecraft dungeon e mettete scarica e siccome io già l'ho scaricato mi dice il file è già scaricato però io lo riscarico per voi ci vediamo quando ho finito di scaricarlo ok ci siamo quasi qui ecco qua vedete poi apparirà questo allora se non vi apparirà questo dovete andare gestione file cliccarlo e poi c'è scritto browser aspetta browser adesso cliccate il primo e mettete consenti mettete installa e aspettate ovviamente l'installazione apriamo ragazzi ragazzi guardate 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 e siamo entrati su minecraft dungeon allora possiamo cambiare l'eroe allora abbiamo questo io siccome che in questi giorni vorrà fare dei video su minecraft dungeon mi metterò lui ok vedete ora funziona ora faccio vedere ho iniziato il gioco guardate e sono dentro eh ragazzi guarda sono io che sparo guarda guardate vedete e qua c'è l'inventario e solo che per farvi vedere il tutorial ho perso tutte le robe avevo un botto di cose prima e se volete giocare cliccate dopo qui e mettete quale volete non vi conviene questa qua l'house cioè all'inizio vi conviene fare no anzi allora se voi dovete andare in house qui dovete andare nel villaggio e andare nell'house dove ci sono i zombie invece vi conviene all'inizio fare fare arena come sempre se sto video vi sia piaciuto e anche di insegnamento spero che il video vi sia piaciuto come sempre lasciate un bel mi piace ci vediamo al prossimo video ciao ciao raga